Musica Buonasera gentili telespettatori, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale La Cronaca. In apertura i vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri in Viale Don Minzone a Iesi per l'incendio doloso di un'autovettura parcheggiata a ridosso della vetrata di un'attività commerciale. La rottura della stessa ha causato l'ingresso del fumo all'interno dei locali. Il tempestivo intervento dei pompieri cittadini, integrati dai colleghi di Ancone d'Arcevia, ha scongiulato la propagazione del rogo ed impedendo danni più gravi. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri di zona che hanno arrestato un 25enne del posto, ritenuto il responsabile dell'incendio, è rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria. Grave incidente stradale questa mattina ad Ascoli Piceno, nel quartiere Luciani, a pochi passi dal liceo artistico. Uno studente in sela alla sua moto è andato a sbattere contro un'auto, finendo poi la sua corsa contro una recinzione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto all'ospedale Mazzoni, dove il giovane si trova attualmente in prognosi riservata. E cambiamo argomento con il nostro primo servizio, presentati i risultati del progetto Isola, indicatori di sostenibilità locale per l'ambiente, un'iniziativa lanciata dall'ARPAM in collaborazione con Anci Marche Regione a sporto della sostenibilità delle scelte e delle azioni per la qualità della vita delle realtà locali marchigiane a sostegno della loro divulgazione. Sentiamo l'intervista. L'indagine è stata svolta cercando di reperire tutti i dati, le informazioni dalle banche d'ase esistenti, quindi a partire dall'Istat. Poi abbiamo le banche dati nostre, perché nell'ARPAM c'è sia l'osservatorio rifiuti, abbiamo l'anagrafe dei siti inquinati, collaboriamo direttamente con il Ministero nella definizione del consumo di suolo attraverso l'elaborazione delle immagini satellitari, quindi dei dati, abbiamo cercato di privilegiare quelli che avevamo disponibilità. Negli altri casi abbiamo chiesto informazione agli uffici regionali, abbiamo chiesto informazione ad ARERA, abbiamo chiesto informazioni e dati ai comuni, anzi, devo dire che è stata un'occasione per conoscere personalmente le amministrazioni di tecnici comunali, abbiamo stretto dei rapporti, abbiamo fatto capire l'importanza di fornire questi dati, sempre nell'ottica della sensibilizzazione degli utenti, dei cittadini allo sviluppo sostenibile, quindi i comuni ci hanno dato tutti la massima disponibilità, seppure tra mille difficoltà, perché noi abbiamo comuni anche più piccoli, diciamo che sono meno strutturati, per cui l'ufficio ambiente magari fa parte anche dell'ufficio lavori pubblici, e quindi gli impegni sono tanti, ma devo dire che nessuno si è tirato indietro. Ecco, io mi auguro che sia un primo lavoro, che si possa andare avanti proprio nell'ottica della valorizzazione di quello che abbiamo, e sia da una parte come valorizzazione, dall'altra questi studi devono essere uno stimolo per le parti, per gli indicatori, dove siamo un pochettino indietro, per poter migliorare. La regione Marche è una regione che ultimamente sta sviluppando, sta ottenendo grossi risultati a livello di turismo, a livello di turismo è molto importante l'ambiente, la mobilità sostenibile, è un aspetto nel quale nella nostra regione andiamo forti, siamo forti e dobbiamo valorizzarlo. Molti più aspetti positivi che criticità. Alcune criticità ci sono, come è normale che ci siano, però diciamo se rapportate a livello nazionale, assumono tutte un contesto molto limitato come criticità. Ed eccoci agli aggiornamenti sulla pandemia, che indicano cifre in calo, ma purtroppo tornano a crescere i decessi, che secondo quanto comunicato dal Gores sono stati nelle Marche, nelle ultime 24 ore, sei, quattro uomini e due donne, di età compresa tra i 62 e gli 86 anni, tutti con patologie pregresse. I loro comuni di residenza erano Pesaro, Senigalli, Offagna, Fermo, Monte Felcino e Controguerra nel Terramano. 1.255 nuovi positivi, di cui 331 nel Lanconetano e 272 in provincia di Macerata. Sostanzialmente stabile il numero di ricoverati complessivi, che sono 120 con tre degenti nelle terapie intensive. La Guardia Costiera, nel corso della sua attività di controllo, che nel territorio regionale ha riguardato complessivamente ben 41 attività ispettive, ha elevato 10 sanzioni amministrative per un valore di oltre 14.000 euro, con sei sequestri di prodotto ittico di diversa tipologia e specie per una totale di circa 241 kg, oltre ad otto attrezzature da pesca utilizzate in modo difforme rispetto alla normativa di settore. In particolare, si segnale il sequestro di 150 kg di prodotto congelato presso un'attività commerciale nel Fermano. Altro intervento dei Vigili del Fuoco, oggi attorno alle 12 a Filottrano per recuperare un autocarro che trasportava un escavatore per cause da accertare il conducente, rimasto illeso, ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato lungo la carreggiata occupandone una parte. La squadra dei pompieri di Osimo ha messo in sicurezza l'area, non si segnalano comunque persone coinvolte, notevoli i disagi al traffico, con code e rallentamenti. E cambiamo ora decisamente argomento. Dal 18 al 22 maggio, Ancona ospita Tipicità in Blu nello splendido scenario della Mole Van Vitelliana in servizio di Manolita Scocco. È l'edizione della speranza, così Angelo Serri, direttore di Tipicità in Blu, introduce la presentazione dell'evento che dal 18 al 22 maggio salperà ad Ancona per ospitare la nona edizione della manifestazione dove il mare incontra le persone. Ancona è effettivamente direi un museo a cielo aperto per quanto riguarda il mare e le attività del mare. Qui arrivano i traghetti dalla Grecia e dalla Croazia, qui è abbe croceristico, porto peschereccio, si fa lo sport, si caratterizza per la gastronomia di mare, per la nautica, per la cantieristica e potrai continuare. Qui si può studiare la Blue Economy, quindi ha trovato un terreno fertile e anche tra i vari attori che operano in questo contesto che hanno subito aderito e si sono subito prestati a fare squadra. Tipicità in Blu, festival sul quale abbiamo scommesso fin dall'inizio nove anni fa, ha dichiarato Paolo Marasca, assessore alla cultura e al turismo del comune di Ancona, non è l'espressione del progetto di un singolo ente, ma di un territorio. Sì, io credo che tutto quello che avviene a Ancona poi si adatti un po' all'attitudine di questa città. Questa è una città che nasce come porto, quindi luogo di incontro, di incrocio e di apertura con il resto del mondo. E anche un festival che nasce come un evento cittadino tanti anni fa, pian piano diventa un crocevia e un luogo di incontro sul tema del mare per tutto il paese. Questa è una grandissima soddisfazione per noi che assieme alla Camera di Commercio e assieme a tanti soggetti privati abbiamo fatto nascere questo festival. Dunque via questa edizione che prevede le giornate della Blue Economy il 18, 19 e 20 maggio con il festival vero e proprio che si dipana nel fine settimana del 21 e 22 maggio. Tramini crociere sul Conero, assaggi di Adriatico e di Vigna, degustazioni gourmet dei sapori marinari e molto altro ancora. La Regione Marche vince il premio Digital Awards 2022 con il progetto MyCoop Marche il cui nome è ispirato ad una app ideata per i cittadini. MyCoop Marche si è imposto nella categoria comunicazione verso il cittadino, il paziente e le istituzioni. È la prima volta che una regione e non un'azienda farmaceutica raggiunge questo traguardo. Al concorso sono stati presentati ben 627 progetti in 14 categorie. Promuovere un servizio di giustizia più vicino al cittadino e al contempo decongestionare gli uffici giudiziali da alcuni procedimenti attraverso una rete di uffici di prossimità. Sono queste le finalità della creazione di veri e propri punti di contatto degli uffici giudiziari dislocati sul territorio dove i cittadini possono ricevere gratuitamente da personale qualificato informazioni e chiarimenti su specifiche materie di competenza del giudice tutelare e accesso a servizi decentrati. Qualche esempio di procedure per cui ci si potrà rivolgere a tali uffici. Volontaria giurisdizione, tutela e curatela, amministratore di sostegno, rilascio dei documenti per l'espatrio, la disponibilità finanziaria assegnata alle marche per la realizzazione di questa rete di punti informativi è di 1 milione e 217 mila euro. Ed andiamo a Pesaro per conoscere la supernonnina d'Italia, Domenica Ercolani, classe 1910 che qualche giorno fa è diventata la più anziana vivente nel nostro paese dopo la scomparsa a Bergamo all'età di 112 anni di Angela Tiraboschi. Un vero e proprio record di longevità. Camilla Cataldo. 111, quasi 112. Sono gli anni di vita della nonnina d'Italia, Domenica Ercolani, che vive a Pesaro. Il sito internet ultracentenari l'ha fatta salire sul trono nazionale della longevità nostrana. Un grande traguardo. Nelle Marche si sta bene e Domenica, nata a Urbino il 3 luglio 1910, non è l'unica ultracentenaria in regione. Ha attraversato due guerre mondiali e tre pandemie. Ha una fibra d'acciaio. Ha fatto la casalinga prendendosi cura dei figli, della casa e dell'orto. Vedova di Cristoforo, capo stazione, vive con la figlia Alessandra e ama parlare delle galline e del suo orto. Domenica, adora avere attorno luce e vitalità. Porta i guanti bianchi e sorride, godendosi anche questo successo. Qual è il segreto di tanta longevità? Si vive bene a Pesaro? Mia madre è molto vissuta fuori, perché è casalinga, ha fatto le sue faccende, curava i fiori, poi c'aveva tutto il giardino, tutto il giardino, l'insalata, faceva l'insalata, le bietole, insomma, curava tutto il di fuori e hai vissuto di fuori, insomma, l'ha aperto. Poi anche il fatto che non mangia molto, capito, sta sempre attenta nel mangiare, mangia cose naturali, per esempio sempre fatta da sola, la pasta che faceva la sfoglia, mi ricordo, e dopo legumi, legumi, insalate, queste cose così naturali mangiava sempre. Per quello io penso e anche perché stavo molto all'aria aperta, capito, per questo è vissuto a lungo e poi anche sta fortunata che tutti i suoi organi sono tutti proprio al top perché lei non prende una medicina, mai, l'ospedale l'ha visto solo quando ha fatto la cataratta e basta, non l'ha mai vista, quindi apposta è vissuta. Domenica ama pregare legata a Padre Pio e anche legata al parroco di Loretto, vorrebbe fare la comunione? Sì, sì, sempre, quando è la sera poi siccome eravamo abituati che quando lei camminava mio marito stava meglio, li caricavo tutti e due nella macchina la sera alle 5 mesi e portavo prima al rosario alle 6 anzi al rosario e poi dopo c'era la messa tutte le sere, tutte le sere fino a 3 anni fa. Tra poco saranno 112 anni, cosa vorrebbe regalare alla sua mamma? C'è un bel mazzo di rose. Signora, come sta? come si sente? Non c'è male, non c'è male, non è che sto male, via. Brava. Complimenti per i suoi 111 anni, è un traguardo. 111 no. Tanti anni portati bene, ha vissuto felice con la sua famiglia? Sì, sì, sempre in pace. Confcommercio Marche Nord condivide gli emendamenti proposti dal consigliere regionale Giacomo Rossi alla proposta di legge sulla raccolta dei funghi che prevedono l'introduzione di un permesso giornaliero di un euro per i non residenti nelle zone montane. Un ticket quindi per chi effettua la raccolta di funghi nelle nostre località collinarie e montane. Un ticket da pagarsi nei locali del territorio di raccolta e che sarà reinvestito localmente per il mantenimento e la salvaguardia del territorio e delle strade e nella vigilanza. Accordo di collaborazione tra l'Università Politecnica delle Marche e il Comune di Osimo per un nuovo piano urbanistico generale. Manuela Cermignani. È stato presentato ufficialmente l'accordo di collaborazione tra l'Università Politecnica delle Marche con il Dipartimento Simau, Scienze ed Ingegneria della Materia dell'Ambiente ed Urbanistica ed il Comune di Osimo per la predisposizione del nuovo piano urbanistico della Città. Il tema è proprio quello di ragionare sul futuro sulle visioni su quello che ripartendo dai territori perché questo è un punto fondamentale la città di Osimo e il suo agglomerato potrà fare e continuerà a fare nel futuro. Esiste già un canovaggio questo è stato già molto utile per acquisire finanziamenti siamo nella fase attuativa dico che gli annunci sono molto facili lo dicevo anche stamattina le risorse in un convegno proprio sui temi degli enti locali le risorse è un po' più difficile acquisirle ma la terza cosa quella dell'attuazione è ancora più difficile e credo che questa grande volontà di collaborare che aumenterà anche in futuro il nostro rapporto sinergico sta a dimostrare anche un apporto molto fattivo di collaborazione. È un'opportunità per dare una dimensione più importante ad Osimo grazie all'opportunità che ci ha dato l'Università Politecnica delle Marche è nato un progetto proprio che ricordavi dell'arcipelago dei contesti cioè costruire una visione strategica futura di Osimo dal punto di vista urbanistico andando in mezzo alla gente il laboratorio che si è creato non si è creato dentro le stanze segrete del comune ma i collaboratori del professor Marinelli dirigente del dipartimento Simaudi Urbanistica dell'Università Politecnica delle Marche con il suo staff e con la dirigente Emanuella Vecchietti e con noi amministratori è andato a lavorare sul campo di sette giorni in sette giorni abbiamo diviso la città in quadranti meglio definite e conosciute come frazioni e lì abbiamo elaborato una prima bozza per il futuro della città dal punto di vista urbanistico l'obiettivo è entro la fine dell'anno grazie a questa collaborazione portare l'adozione preliminare del piano regolatore alla discussione del Consiglio Comunale Alla conferenza stampa hanno partecipato tra gli altri l'assessore all'urbanistica Comune di Osimo Annalisa Pagliarecci il professore Giovanni Marinelli tecnica urbanistica dell'Università Politecnica delle Marche e la dottoressa Manuela Vecchietti dirigente ufficio progetti speciali ed edilizia urbanistica del Comune di Osimo e siamo allo sport il fine settimana inizia stasera con Ascoli Benevento gara secca del turno preliminare dei playoff di Serie B ne parleremo diffusamente nelle prossime edizioni del nostro DG ed ovviamente nelle trasmissioni dedicate al calcio ricordiamo che se al 120esimo persistesse il risultato di parità saranno i bianconeri ad accedere alle semifinali dove incontreranno il Pisa domani invece la giornata decisiva per la fermana Viterbo nel ritorno dei play-out di C si parte dall'1-0 dell'andata siglato da Chiere Matengo una piccola dote da difendere con le unghie e con i denti dovrebbero aggirarsi attorno ai 500 i sostenitori che inciteranno i ragazzi di Baldassare in un confronto decisamente difficile dove carattere ed attributi conteranno tantissimo e sono peculiarità che i canarini hanno sempre dimostrato penultima di campionato in Serie D con l'area canatese già promossa sul terreno invece del notaresco fondamentale sfida salvezza per il Fano Calmancini potrebbe compiere un passo decisivo verso l'approdo in caso di vittoria della tranquillità con il vasto Girardi un altro delicatissimo scontro diretto è quello tra Castelnuovo e Montegiorgio mentre non dovrebbero avere problemi San Benedettese Castelfidardo contro Alto Casertano e Nereto già retrocessi completano il quadro Tolentino Pineto e Vastese Portodascoli mentre si chiude la regular season in eccellenza con il match club che senz'altro Iesina Fossombrone ed intanto la Vigor Senigallia neopromossa in categoria superiore ha confermato per la prossima stagione in panchina Aldo Clementi ma sarà anche il fine settimana della Carpegna Prosciutto che dopo dieci anni torna ai playoff scudetto di basket anche se l'avversario è il più competitivo che si potesse incrociare ossia la Virtus Segafredo Bologna tra l'altro reduce dal trionfo in Euro Cup si comincia domenica alle 21 arbitri Lanzarini Loguzzo e Perciavalle ed in fondo si parte 5 contro 5 come dichiarato Dario Costa al microfono di Camilla Cataldo sentiamo La mano di Luca Banchi è evidente la squadra è cresciuta tanto ha preso fiducia e solidità anche Moretti si è distinto specie nel gelone di ritorno come tutti i suoi compagni e l'EMB sempre decisivo con i suoi canestri finali ma ripeto quando si vince o si perde è sempre una questione di squadra e ovviamente è la cosa che a me piace molto in questa squadra al di là della bravura indiscutibile dell'allenatore è che ogni partita ogni momento ma direi più partite c'è sempre stato un protagonista diverso in un modo o nell'altro in attacco o in difesa ecco tu hai nominato l'EMB è vero l'EMB ha fatto i due canestri incredibili che non dico non te lo aspettavi però che con grande coraggio Moretti io non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità e sul suo talento ha dovuto piano piano non dimentichiamoci che veniva da stagioni complicate complicate perché non giocava e quindi una volta preso tutto quello che doveva è un giocatore secondo me di grande livello per cui bene bene si comincia il 15 con i playoff ogni due giorni ci sono partite le prime due gare sono a Bologna gara 3 dovrebbe essere appunto a Pesaro il 19 maggio che è una data importante perché è quella del primo scudetto cosa ti aspetti da questo primo turno dei playoff ma mi aspetto di giocare come stiamo giocando essere molto più leggeri di quello che eravamo fino a qualche settimana fa mettere in campo tutte le nostre qualità essere orgogliosi di dove siamo essere consapevoli che abbiamo di fronte a un avversario difficilissimo secondo me il più forte del campionato e quindi bene benissimo poi voglio ricordare che in campo si va in 5 5 contro 5 e non si sa mai e l'ultima volta con Bologna Virtus ci sono state 7000 persone è un buon auspicio ma questo non vorrei essere patetico a dire che ci aspettiamo anche 9000 persone nel senso che la gente spero che venga che ci sia vicino come ha sempre fatto soprattutto nell'ultimo periodo si è ricreata un'atmosfera bellissima e quindi siamo anche di questo abbiamo fatto veramente tanto lavoro lavoro con sacrifici ma mi sembra che piano piano ricostruiamo e sarà una domenica di passione anche per la CBF Balducci Macerata che giochi il primo match point per la promozione in A1 femminile a Mondovì nella serie di 2 gare su 3 e dopo il successo al tie break ottenuto in rimonta 5 giorni fa servirà una super prestazione per le arancionere vicine davvero ad un obiettivo storico ed in Piemonte tra l'altro non saranno sole nonostante la lunghissima distanza le 18 a Grotta Zolina primo match di finale per la promozione in A2 tra la Videx e Daci Castello Catania nel podismo a Sant'Elpidiammare un appuntamento ormai tradizionale Mario Giannini L'atletica Elpidense Avisaito di Sant'Elpidiammare festeggia i 50 anni di vita con una gara che ricorda l'ampio lavoro a favore dei giovani e della promozione per l'atletica leggera un'attività intensa nata inizialmente come attività podistica sulle spalle ma anche sulle gambe di sei appassionati che hanno segnato importanti tracce del podismo marchigiano dire Gianfilice Antonelli Marcello Streppa Antonio Satulli Franco Marinozzi Mario Mignucci e Silvano Pacini significa dire podismo marche organizzazione di eventi che hanno portato in nome di Sant'Elpidiammare in Italia nei 50 anni di attività ampio spazio è stato dedicato al settore giovanile grazie anche alla creazione della pista di atletica presso lo stadio comunale dove hanno avuto modo di mettersi in evidenza atleti di ottimo valore da Luigi Di Lello Marco Fantuzzi Barbara Lottatori Chiara Natali e molti altri domenica 15 maggio con la disputa del cinquantesimo trofeo Elpidiense e della decima Serran sarà un momento clou per ricordare i tanti personaggi che hanno contribuito ed ancora portano avanti con successo questa attività che da alcuni anni è passata per così dire dalle spalle del padre a quella del figlio cioè da Felice primo presidente del 1972 al figlio Daniele che continua con impegno l'attività della società la Serran nata con la collaborazione dell'azienda CS Sport di Simone Corradini ha dato l'opportunità di avvicinare alla corsa tante persone al di là dell'aspetto agonistico con il solo interesse dell'attività motoria aperta a famiglie e scuola a tutto il tessuto sociale di Sant'Ilpidiammare e non solo nelle edizioni pre-covid si è toccato la cifra record di 4.000 partecipanti e questa nuova ripartenza di domenica 15 è un nuovo segno di speranza ma ci sarà anche una gara vera interessante dal punto di vista agonistico con atleti di buon valore da Stefano Massimi Andrea Falasca Zamponi Mohamed Daji e molti altri la manifestazione è stata presentata sabato 7 maggio presso il casale CS Sport alla presenza dell'autorità della città sponsor e sostenitori e come sempre è subito stato chiaro che questa cinquantesima Maradonini del Piliense decima Serran segneranno un nuovo modo di ripartenza e di fare sport per tutti e tornando alla pallacanestro partono anche playoff e playout di serie B nel primo caso Ragusa Ancona e anche sfide in panchina tra Piero Cohen ed Antonio Bocchino mentre Senigallia se la vedrà con Bisceglie per non retrocedere Iesi Civitanova e Sutor Montegranaro di scena a Cesena e vediamo ora le previsioni meteo per sabato 14 maggio ben trovati in aggiornamento con le previsioni di tra bimeteo la giornata di sabato vedrà un campo di alta pressione interessare ancora il Mediterraneo centrale con bel tempo anche se il nord sentirà di infiltrazioni di aria un po' fresca in quota andiamo al dettaglio di fatti della nuvolosità perché condizioni saranno di bel tempo su gran parte lo stivale a parte della variabilità attesa nella seconda parte del giorno al nord e sull'Appennino di fatti possiamo notare inizialmente condizioni di clima asciutto ovunque ma durante il pomeriggio si innescheranno dei fenomeni temporaleschi su Alpi prealpi in parziale estensione all'ilmitrofezzano e pianeggianti del nord soprattutto di Veneto e Fulinezia Giulia qualche sporadico temporale di calore anche sulle aree più interne dell'Appennino la prossima grafica invece ci conferma come altrove ritroveremo condizioni di bel tempo con temperature che saranno estive al centro nord Italia anche sul medio tirreno massime fino a 27 e 28 gradi tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita ai trevi meteo visitando gli articoli sul nostro sito web un'ultima notizia sarà Cascia ad ospitare l'Ancona di mister Colavitto per il ritiro precampionato in programma dal 25 luglio al 13 agosto la formazione bianco-rosa si trasferirà nella cittadina di Santa Rita e soggiornerà al Grand Hotel Elite gestito dalla di Curzio Incoming a disposizione di bianco-rossi due campi con annessi spogliatoi per squadra e staff una tenso struttura adiacente servita con attrezzature fitness e la piscina una struttura tra le più moderne della Val Nerina è tutto per il nostro telegiornale grazie per la cortesa attenzione